Io volevo chiederti se hai partito molto molto bene, poi nell'ultimo mese hai fatto forse un pochino più fatica. Come valuti questo momento tuo attuale e se ci sono delle difficoltà? E poi se è possibile una curiosità, a fine partita dopo il Milan Mancini ci ha detto che il rigore dato su Ibrahimović in Premier sarebbe stato considerato quasi ridicolo. Insomma si sarebbero messi a ridere, tu che vieni dalla Premier la pensi così? No. Tommi, hai fatto un buon start per la season, ma in ultimo mese hai struttosto un pochino. Come va? 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 Questo è il momento migliore per dimostrare la leadership e cercare di aiutare la squadra. È chiaro che ognuno vorrebbe giocare la stagione perfetta, tutti vorrebbero vincere tutte le partite, ma capita di attraversare momenti difficili e questo è il momento di superarlo. Per quanto riguarda la decisione arbitrale dell'ultima partita, mi limito a dire che gli arbitri sono sotto una pressione enorme, che commettere degli errori è umano, è evidente che in quanto parte in causa il calciatore della Roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi, ma capita. Buongiorno, volevo chiederti come stai fisicamente dopo l'infortunio che hai riportato in nazionale, visto che hai avuto un problema e la curiosità che mi viene è sulla tua partecipazione emotiva all'inno della Roma, che ha fatto piacere a tanti tifosi. Mi piacerebbe sapere cosa ti trasmette l'inno, visto che in campo fai capire di essere molto coinvolto. Grazie. 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 Quasi sono e iniziotti al momento, in termini della spettazione, della forma, dopo la scelta e la manorrazione con il l'associazione nazionale, e riguardo il trasmaggio dell'anthomo dell'Italia, la tua partecipazione, la tua partecipazione, la tua partecipazione emotiva e i raggiorni davanti, che cosa senti, quando ti senti la partecipazione? I think going back to the question you asked about the injury with the national team, it's getting better. Of course, I've struggled with ankle pains and little injuries here and there, and it's about how I look after myself. And, you know, I'm a player who always wants to help the team, so I don't let injury get in the way of me helping the team. So, you know, me, I don't like excuses, but, you know, every footballer wants to play with, you know, no pain and 100%. But, you know, sometimes in football it doesn't work like this, but the physios, the staff, everybody's looking after me. So hopefully I'll be back to 100% soon. And with the Roma chants and the songs, I think since the first day I fell in love with Roma, since the first day I got here. And, you know, as you can see, when I'm on the pitch, you know, I just, I'm so passionate about the club and the way they've made me feel. You know, they've made me feel like I've been here for so many years. So it's, you know, I have to repay them with performances and show how much I would do anything for this club. And hopefully it continues, you know, as players we need the fans as much as possible to support us. Of course we need to perform on the pitch to, you know, to show that we care about the club. But, you know, then again, it works both ways. Yes, thank you. Thank you very much. squadra che ha investito molto su di me, quindi sta a me ripagare con le prestazioni, la speranza è che i tifosi continuino ad aiutarci e sostenerci sempre, è chiaro che noi dal canto nostro dobbiamo rispondere con le prestazioni in campo per dimostrare quanto teniamo a loro e a questo club. Volevo sapere quali difficoltà stai riscontrando nel passaggio dalla Premier League al calcio italiano e rispetto anche a quello che ti chiede Mourinho di fare in campo? Sì, è chiesto se stai passando alcune difficoltà nel cambiamento dell'English Premier League dell'Italian futbol con riguardo a quello che ti chiede Mourinho di te? Non direi, ovviamente il futbolismo è sempre un challenge, il cambiamento dei paesi, il cambiamento dei luoghi è sempre un challenge, ma il coach Mourinho è qualcuno che ho avuto un po' di volte in England, ho avuto i privilgiamenti di trainare con lui, quindi non direi che è molto difficile, ovviamente è un challenge, è nuovo e è qualcosa che mi e il team stiamo ancora aprendendo ogni giorno, e quando ci siamo collegati e quando ci insegniamo e quando ci insegniamo il nostro game plan, ci siamo un gruppo molto top, e fino ad ora dobbiamo continuare a lavorare, lavoriamo a lavorare ogni giorno, come diciamo, Roma non è in un giorno, quindi è qualcosa che dovremmo continuare a lavorare. Non direi che stia attraversando delle difficoltà in termini di ambientamento, il calcio comporta sempre delle sfide, per me in particolare che ho cambiato campionato, paese, tipo di calcio, e per quanto riguarda il rapporto con il mister ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra, di allenarmi con lui in qualche circostanza, e direi che è di nuovo un contesto di sfida, un contesto nel quale si impara ogni giorno, tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno e nel momento in cui avremo acquisito completamente quelle che sono le richieste e la filosofia del mister, noi saremo una grande squadra. Fino ad allora dovremmo continuare a lavorare duro, ci stiamo conoscendo sempre meglio ogni giorno, del resto, voi lo sapete meglio di me, si dice che Roma non è stata costruita in un giorno. A proposito di sfide, tu vieni dalla Premier League, non sono molti i calciatori inglesi che sono venuti a giocare in Italia, ancor meno quelli che hanno avuto successo in Italia. Ti aspettavi, a precedere dalle difficoltà personali, un campionato anche così chiuso tatticamente, perché in Inghilterra sembra che ci si diverti di più a giocare a calcio. È questo un problema d'ambientamento che stai trovando? Sì, parlando di sfide, sono pochi giocatori che hanno deciso di giocare in Italia e anche pochi giocatori che hanno stato successivi. Hai aspettato di trovare un tipo di sfide di difendere, come si è stato di inglese, dove i giocatori si piacciono di più? E' questo parte della struttura che hai avuto per l'Italian futebol? Io credo, quando ero in grado di giocare contro gli italiani, soprattutto quando ero in una squadra nazionale, quando ero in grado di giocare contro gli italiani, è una cosa che ho apprenduto. È molto difficile di ridurare l'Italian futebol. Quindi, questo è una cosa che ho sempre risposto, una cosa che ho aspettato. E per me, questo è il learning curve. Io sono ancora ragione, questo è un altro challenge per me. Questo è un problema di sviluppo di sviluppo. Ovviamente, io sono usato in grado di inglese football, dove le cose sono molto aperte. Molte players hanno venuto in grado e non sono stati successivi, come tu hai detto. Ma per me, è un learning curve. È un problema di sviluppo 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 di sviluppo. e utilizzare la mia fortuna contro loro. Quindi, è qualcosa che ho apprenduto ogni giorno. È un problema di tempo, ma è qualcosa che ho apprenduto. Non sono una persona che si riuscita da un challenge. Quindi, sono felice. Penso che sono molte cose buone. Grazie a tutti. Il mio processo di apprendimento, di crescita, sono ancora giovane. È chiaro, vengo da un calcio più aperto, da un calcio più propositivo, più offensivo, con spazi più aperti. Però, ecco, fa parte del mio processo di crescita. Imparare a conoscere quali sono i punti deboli di certe squadre, di certi giocatori. È un processo che richiederà del tempo, ma non sono il tipo da recedere da sfide come questo. e sono sicuro che verranno in futuro cose molto belle. Volevo chiederti se sinceramente pensavi di poter perdere 6-1 una partita del primo girone di Conference League e se domani basta vincere, anche 1-0, oppure sentite di dover dimostrare qualcosa in più contro un avversario che vi ha messo così tanto in difficoltà. Chiedete che per la squadra di 6-1 una partita di conferenza di 6-1, e che il giorno sia abbastanza per aver avuto 1-0? O c'è un punto per provare di un team che ha fatto così molte problemi? di te? Of course, you go into a game and you never expect to lose, you never want to lose. The way we lost, for us, was a big disgrace. We're better than that and we're better than what we showed that day. I think tomorrow is a perfect game, it's the right step to go out and give a performance and show that we're really here to fight. Give it to them, they're a top team but we're also a top team so I'm expecting a good game tomorrow and I think if we're our best and they're their best I think hopefully we can get the win and a win is what we need. It's been a bit of a negative game. Tomorrow we'll show you what we want because we're not sure that we're in the end. It's an opportunity for to fight, to put things in place. We're going to face an awesome team as we've already seen. We expect a good game. Tomorrow we'll show you for the victory because it's what we need. Would you like to take a next penalty kick since you tried to take one in the derby and then especially against the Juventus in Europe? No, you know, for me as a striker you always want to score goals. I think in the heat of the moment I feel like with the confidence and winning the penalty I felt at the time I felt like I could score the penalty but before games you know who's on the penalty and Jordan Veritut was on the penalty but he's someone who always scores penalties. I think on the day there was a little bit of pressure but he always deals with the pressure so hopefully I'll be on them soon when I'm scoring a lot of goals but until then Jordan's our penalty so he takes them. I think in that moment I felt like I had to be a Torino I've had to be a good I've had to a good goal and I'm ready to score it but before the part we know we know what is the jerseys of the rigor Tra l'altro Jordan è un rigorista straordinario, era un momento un po' particolare, c'era pressione per tutti, però ecco, io spero di tornare a fare presto dei gol e che Jordan continui a calciare i rigori bene come fa. E come hai lavorato come gruppo di strike, come hai scoperto come un disgrace? Penso che il miglior modo di approcci un gioco come questo è di avere la fiducia in la squadra. Abbiamo aspettato un buon gioco, come ho detto prima, io ho aspettato un buon gioco, quindi abbiamo bisogno di essere preparati. Sì, la domanda è se in qualche modo la Roma è stata sorpresa nella gara di andata e in modo si è preparata adesso per replicare a quella sconfitta che è stata per la Roma per tanti versi umilianti. Il modo migliore per prepararsi è quello di lavorare con fiducia, fiducia nella squadra, nel collettivo, come dicevo io, ma tutta la squadra domani si aspetta di giocare una buona partita, dobbiamo essere pronti, dobbiamo giocare al nostro meglio e cercare di voltare quella pagina definitivamente. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.